Spiritualità e musica, la straordinaria vocazione della vita e un grande amore, testimoniato dal fondo di ben 700 dischi, ora custoditi a Villa Braghieri. Castel San Giovanni prosegue i festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita del cardinale Agostino Casaroli e questa volta l'attenzione cade sulla passione, non segreta, che l'uomo di chiesa coltivava per grandi compositori classici liturgici, tema ripercorso nella tesi di laurea scritta da una studentessa originaria di Pecorara. Per me è stato un viaggio all'interno di una passione di un uomo. Lui era appunto un appassionato di cultura a 360 gradi. Il filo conduttore che ho scelto è stato magari quello della musica sacra, cioè ho cercato comunque di soffermarmi soprattutto sulla musica sacra oppure su alcuni ritrovamenti musicali che lo legavano alla sua storia e alla sua attività diplomatica. E penso che in un certo qual modo anche la musica potesse essere un segno della sua fede, comunque della sua spiritualità. Il ricordo del cardinale scomparso nel 1998 è ben vivo nella memoria dei fedeli. Devo dire che il centenario che stiamo celebrando aiuta a rendere viva la memoria. Incontrando le persone mi capita, tante volte anche in questi giorni, di sentir ricordare degli aneddoti. Ed è bello che sia così perché il nostro desiderio è proprio fare in modo che la figura del cardinale diventi attuale e parlante per noi. E' stato una di quelle persone che non solo si stimano ma a cui ci si affeziona. Penso un po' a quello che sta capitando con Papa Francesco. E allora il richiamarne il ricordo aiuta proprio a sentirne anche uno stimolo nel presente. La presentazione della tesi di laurea si terrà sabato 25 gennaio alla collegiata di San Giovanni Battista. L'appuntamento è alle 21 e a seguire si terrà un concerto di un gruppo di ottoni e organo, con musiche, tra gli altri, di Vivaldi, Mozart, Mascani e Bach.